Ciao a tutti amiche e amici di The Channel, bentornati ad un nuovo episodio dedicato a World Days. Ritorniamo direttamente dalla battaglia che ci ha fatto perdere l'ultima volta, se vi ricordate. Innanzitutto voglio ringraziare tutti quelli che hanno scritto i commenti, hanno lasciato i like, perché siete riusciti a trasformare un proviamolo in una serie. E quindi, insomma, sono molto contento del fatto che ci sia stato tutto questo interesse. Però ho ricevuto anche molti commenti e molti suggerimenti, tipo che sbagliavo completamente il minigioco della Forza e adesso penso di aver capito. Comunque voglio provare a vedere se ho capito. Vi devo anche dare molti aggiornamenti sulla versione in italiano. Allora, ora che registro il video sto ancora giocando in inglese, perché Taurus mi ha confermato che la traduzione è a disposizione sul sito IT Games. Vi lascio qui sotto il link, stavolta non mi dimentico. Ma prima che io la importi, voglio aspettare che sia definitiva definitiva. Io al momento sto registrando un po' prima rispetto a voi. È il 29 di luglio per me. E Taurus sta lavorando alle rifiniture. Quindi farò un video quando la traduzione sarà pronta nella mia linea temporale. Immaginate che questo sia un film di Quentin Tarantino. Quindi la mia linea temporale è prima della vostra che vedete il video. A meno che voi non siate abbonati con il conclavo. In quel caso vedete tutti i video in anteprima. Non dovete aspettare la programmazione. Date un'acchiata al programma nel caso. Quindi la traduzione c'è, la potete scaricare. È una traduzione che nel tempo verrà perfezionata e appena sarà pronta poi farò un video in cui ve la presenterò. Adesso però si gioca e cerchiamo di evitare di morire male perché ci sono tre lupi e un lupo alfa. Questo è il caso. Allora io direi di portare, in questo caso abbiamo, facciamo così, la nostra donna arciera la teniamo dietro. Arciere. Questi due andranno a fronteggiare i lupi. Sì così mi piace. Allora prendiamo adesso Ingras. Prima cosa Ingras va a bloccare l'alfa. Fa un defensive stance che aumenta la difesa. Poi andiamo su... E finisce il turno. Poi andiamo su Kenarol. Che si posiziona a bloccare questo e attacca. Con uno stab. Quindi do a coltella. Diamo il turno. Adesso tocca al lupo che contraattacca. E adesso c'è un sanguinamento. Attenzione i sanguinamenti sono pericolosi. Ora abbiamo un'altra possibilità di bloccare un altro lupo. In questo caso io con Frenzy posso fare un attacco aggiuntivo. E poi faccio l'attacco normale. E il lupo qui ha perso già la metà dei 6 punti ferita. Se io adesso chiudo... Vediamo cosa fa... Ah! L'altro lupo purtroppo ci va a doppiare... Ok. Per forza di cose devo portare Mineon qui. E devo fare un colpo... Che va... Un colpo che va a indebolire un colpo indebolente e un annihilation. Eh beh però li stiamo menando forte. Ah! Posso... Guardate! Visto che questo ha meno del 50% dei punti forze posso usare l'ultimo punto di valore per ucciderlo con la rabbia. Tre colpi e un lupo andato. Guardate che culo. Chiudiamo il turno. Adesso lupettino. Contraattacca. Poi è il turno dell'arciere. È il turno di Hirinon. Che però vedete che non riesce... Deve spostarsi per poter scagliare la freccia. Questa freccia potrebbe uccidere? No. In realtà no. Però usiamola. Uccide con un critico! E abbiamo la galvanizzazione. Siamo stati fortunati. E adesso c'è la seconda... No. C'è Sanctos. Ok. Ok. Sanctos... Eh, dannazione. Sanctos non riesce ad attaccare. È troppo lontano. Dobbiamo passare e tocca all'alfa. Ora c'è l'alfa contro Ingras. Però Ingras si è messo in difensiva e l'alfa fa veramente poca storia. Adesso qui noi ci mettiamo al lato e avveleniamo il lupo con un colpo al lato. Benissimo. E così guadagniamo un altro punto di valore. L'alfa adesso inizia ad attaccare Ingras e gli fa un po' di danno in più. Adesso Ingras però slice. Lo fa a fettine. Bene. E dopo averlo fatto a fettine lancio l'incoraggiamento. Così i nostri amici che sono vicini aumentano la protezione. Anche quello che sta sanguinando. Questo è importante. Che è... Kananor. Kananor continua a pugnalare. Altro colpo critico. Purtroppo non uccide. Però fa molto male. Il sanguinamento fa molto male. Adesso io forse riesco a fare un flanking con Bordlin. Quando un enemy ha meno di mezzo della sua salute. Puoi usare le corde o le rope per capire. Se avessimo delle corde o delle catene potremmo catturare i nemici. Peccato che non ce l'abbia. Knock out. Posso veramente farlo? Non ce la fa. Sì, ho catturato un lupo ragazzi. Sono riuscito a catturare un lupo. Wow. Ehi, questa è una figata. Questa è una figata. Davvero. È una figata pazzesca. Andiamo a vedere. Potevo provare a catturare l'alfa. Però temo che non ci riuscirò. Peccato. Però lo bastoniamo per bene. Ho vinto la battaglia. Se l'abbiamo fatta. E chiudiamo la battaglia con carcasse. Tre. Lupi. Due. Ah no, è cibo. È carne di lupo. I denti. Il cuoio. E il grasso. Lut all. E this animal was captured in combat and was added to your troop. Abbiamo un lupo. Allora, posso provare a curare quelli che devo? Non posso riparare le armi. Continuiamo. Allora. Andiamo a vedere se possiamo fare dei livelli. No. Iniziamo a spostarci verso... Mappa. Verso... The refugee leader awaits you in the haven. Ok. Qui c'è il leader dei rifugiati che ci vuole parlare. Io volevo andare alla città per curarmi. Però potrei anche fare un piccolo detour. E magari compro le cose per... Magari compro gli oggetti che stanno facendo, ad esempio, dai mercanti. Andiamo a vedere Sanctos. Ok. Io chiamo Sanctos, ma è Santacos. È il nostro ranger e è il nostro ladro. Molti mi hanno detto, guarda, stai attento perché... Dà un lavoro, dà anche dei bonus. Tipo, il ladro ha destrezza e critical hit. E sì, un ranger, per esempio, potrebbe farla questa cosa. Non lo so. Vediamo. Cutthroat Strategist Poisoner. Allora, Poisoner ci va a dare più veleno alle unità nell'area. L'avvelenatore. Poi c'è il tagliagole. E qui c'è lo stratega. Io vado a dare un avvelenatore al nostro Sanctos. E gli vado a dare ancora più critico. Guardate che bello. 13% di possibilità di critico. È altina come probabilità, eh. Wow. Bene. E adesso andiamo a vedere il lupo. Cioè, adesso io praticamente ho catturato il lupo, ma combatte per me. Seriamente abbiamo un lupo che combatte per noi. E possiamo dargli una specializzazione. Allora, Sacrificio. While this unit is not engaging in combat, but is near an ally, it gains fragility, but gives protection to the ally. Aha! Se praticamente il lupo si mette vicino al nostro... Praticamente distrae il nemico. Prende il 30% di danno in più. Ma i nostri alleati guadagnano un 30% di riduzione. Questo è utilissimo. Visto che io non ho tre lupi, prendo il Sacrificio. E a questo punto, visto che prende il Sacrificio... Se io vado a dare Career Plan alla Costituzione, spendo 10 punti, ne ho tantissimi. Yes. E posso andare a dare... No, ma io volevo dare Career Plan su Costituzione. E adesso di Rodato. Di Rodata, scusate. Aumenta la Costituzione del Lupo che diventa un pochino il nostro... Il nostro animale, il nostro pet che va ad aiutare le truppe in difficoltà. Guardate quanta roba che abbiamo. Armi, abbiamo un sacco di roba. Andiamo a vedere in questa... In questa casa se possiamo... Non lo so. Fare qualcosa di utile. Parliamo con questa signora. Vuole una scorta? Ah, perfetto. Vuole che la portiamo a questa fishery. Che è molto vicina. Quindi sì, sicuramente può venire con noi. E parliamo adesso con la signora. Questa vorrebbe del legno, ma noi non abbiamo abbastanza legno. Vediamo cosa dice il pad. A parte che possiamo recuperare qui il hand. E poi la canapa. Non me ne ho raccorto. Eh, qui potrei rubare, però rubare non è bello. Parliamo al signore. Ok, non dice niente. Usciamo di qua. Allora, saliamo. Ehi, amica mia, ma vai piano. Eh, però... Forse devo correre. Andiamo a vedere. Ok, Danai adesso parla al pescatore. E stanno litigando. Praticamente dice che questa struttura è sua. non è della ragazza che abbiamo scortato. Ok, il pescatore dice non me ne frega niente se io non uso questa struttura la tengo io. Non sono un pastore, però bla 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 bla. Parliamo di nuovo alla nostra Danai. Dovemo parlargli. Parliamo al tipo, vediamo un po' cosa ci dice. Allora, possiamo usare la violenza corromperlo. Possiamo guadagnare 20 punti nei confronti dei rifugiati. No, ma scusate, ma di oro ne abbiamo abbastanza. Io gli dico, ti do 50. Vediamo se corrompendo l'accetta. Perfetto, abbiamo comprato questa baracca per le pecore e adesso vediamo se la possiamo assegnare alla nostra Danai. Allora, ci fa avere anche qui 20 punti 20 punti con i rifugiati e un medaglione. adesso i rifugiati possono stare nello shipfold. E questo medaglione che cosa fa? Willpower più uno. Che carina sta cosa, però dai. Allora, andiamo a prendere il nostro tank che non si ricordo male. Infantimane. No. Ragazzi, faccio fatica a ricordare tutte le classi, scusate. Ingress. No, in realtà era mai Neon che aveva che aveva l'armatura bella tosta. No, lo diamo ad Ingress. Diamo ad Ingress che ha costituzione Willpower alto. Adesso gli diamo ok, questa cosa che gli aumenta il Willpower. Perfetto. va bene. A proposito, lui sta ancora usando un Rusty Gladius di livello 1 mentre qui abbiamo armi migliori forse. No. Le armi migliori le dobbiamo costruire. Chiudiamo. Usciamo di qua. A questo punto andiamo avanti. Cioè andiamo avanti e andiamo verso la zona dove il capo dei rifugiati ci vuole parlare. So che devo tornare alla città però lo possiamo fare possiamo fare più tardi. Allora facciamo un bel campo. Ok. Allora questo è il workshop. Mi è stato detto allora se vuoi che succeda qualcosa devi mettere i lavoratori al workshop. Ad esempio io dovrei avere il Tinkerer da qualche parte e lo metto qua a lavorare. Qui ci devo mettere il ladro. qui ci mettiamo il Cuoco. Ok. Assegnare un Cuoco riduce il cibo di due. Assegnare un Tinkerer you can dismantle all value of weapons e ottieni uno ok. Oppure produce due riparazioni. Come faccio ad assegnare qualcosa? Allora shift to place in inventory use. Allora apprentice apprentice ok. Ah perfetto. Allora a parte che con la canapa posso craftare finalmente le corde. Questo lo faccio perché posso catturare magari più se avessi un po' di clothing in più potrei fare uno zaino addirittura. Facciamo così andiamo a vedere adesso use nel camp chest che cosa possiamo fare. la roba che rubiamo può essere venduta. No va bene credo che dovrò impararla questa cosa comunque credo adesso di poter dire dormiamo abbiamo bisogno di 23 cibo adesso abbiamo le ad esempio la carne di dupo non abbiamo bevande ahhh perché abbiamo degli ubriaconi e abbiamo bisogno anche di di cibo oddio food requirements not met saremo tristi però facendo così almeno riusciamo a riempirci la pancia allora ci siamo riposati abbiamo guadagnato due punti di azione abbiamo aumentato la felicità abbiamo aumentato la cosa qui come si chiama l'influenza abbiamo prodotto due raw material continuiamo adesso io vado a prendere guardate tipo qui e posso fare ripara vedete che questo è riparato e poi andiamo da ingras e facciamo ripara e anche questo è riparato praticamente dormendo riusciamo poi a riparare anche gli attrezzi l'armatura questo è ottimo ok possiamo uscire di qua perfetto e procediamo con la nostra il nostro viaggio ragazzi questo gioco mi sta piacendo tantissimo ve lo dico è un gioco davvero bello mi piace mi piace mi piace e la cosa bella è che lo sto giocando per la prima volta quindi è tutto nuovo è tutto oh oh qui un gruppo di predoni penso che ci abbia visti però non ci sta inseguendo questa cosa è interessante ok se io premo shift mentre clicco per camminare corrono gli abitanti questo è interessante c'è una nuova struttura la fattoria di Lund intanto abbiamo un nuovo punto di conoscenza fermi tutti perché restoration bonus repair materials and village blacksmiths restore 5 additional armor point non male questo ce l'abbiamo già però andiamo a vedere che cosa posso prendere nel workshop adesso non posso sbloccare niente sì posso sbloccare il campfire il workshop migliorato il cooking pot migliorato la frusta puoi frustare i tuoi compagni per incoraggiarli ah beh ah beh nuove armi armature cibo salsiccia di lupo maiale grigliato carpa grigliata superi pike con il pesce ham tea ma dai il tè di il tè Maria il tè di erbette il tè di canapa io vorrei far allora il pane lo so già fare peccato che se avessi farina e maiale però la salsiccia di lupo ragazzi io la imparerai tantissimo facciamo così aspetto prima di prendere la prossima la prossima perk perché magari cosa è successo qua c'è del sangue ovunque e delle zucche le posso non le posso no parliamo a Cristina oh hanno ucciso qualcuno hanno ucciso qualcuno peccato maledizione andiamo a recuperare a questo punto corro le erbe il legno e poi scendiamo alla ricerca del gruppo di rifugiati del leader dei rifugiati che ci vuole parlare qui altro legno l'unica cosa che dobbiamo sbrigarci a facciamo un po' di esperienza le ultime parole famose banditi livello 2 sono 7 oppla anche noi siamo 7 però però abbiamo due persone che hanno le armature rotte questa potrebbe essere una battaglia difficile allora con calma vediamoli un po' due pocher con l'arco due pugnali pugnale pugnale pocher cosa dite se ci mettiamo tutti da questo lato cerchiamo di far fuori questi due il più in fretta possibile con ingrass e mineon sempre in prima fila il lupo dove ce l'ho ecco anche il lupo lo mettiamo qua che va magari ad ingaggiare cioè sta dietro cerchiamo di fare fuori questi quattro il più in fretta possibile e poi affrontiamo il secondo gruppo che è un po' più distante questa è la mia idea e a questo punto ingrass questi allora questi attaccano facciamo subito così ingaggiamo subito slice primo colpo e poi prendi la deflection quindi il nostro primo tank si mette in posizione e ha ingaggiato il primo combattente turno successivo a vedete che però l'arciere non si può muovere rimane bloccato vi faccio vedere sta cosa perché è interessante l'arciere voleva il pocher voleva avvicinarsi per scaldere la freccia c'è un suo compare col pugnale che lo tiene fermo praticamente ha perso un turno e va bene così allora adesso Keenor no prendiamo Mineon Mineon va ad ingaggiare l'altro gli dà subito un colpo stordente o come dire che lo che lo indebolisce e un altro colpo che lo uccide e adesso abbiamo sistemato per bene le cose possiamo addirittura spostarci qui dietro poi per ingaggiare l'altro e chiudiamo il turno ok il pugnalatore avvelena il nostro tank e adesso tocca Bordel Bordel che potrebbe guardate fare una cosa di questo tipo sub pazzesco e se chiude il turno così credo che possa guadagnare un punto esatto ok adesso altro pugnale che corre per andare verso la battaglia e vedete che questi stanno perdendo tempo il posizionamento è stato chiave per ora ok Kynor si va a spostare definitivamente qua vediamo se riesco dall'angolo ad attaccare non riesco purtroppo devo chiudere il turno posso spostarmi con l'arco mi metto qua se tengo qui il lupo e colpisco io praticamente riesco a guadagnare un altro punto azione e adesso ne abbiamo uccisi due io adesso mi fermo vedete che abbiamo guadagnato il punto ora tocca i poacher ecco qua si attacca si avvicinano e mirano il lupo probabilmente che è il più debole sì perché perché il lupo attira i colpi però adesso Sanctos Sanctacos lo so Sanctos mi va ad ingaggiare l'arcere sotto che non ha ancora colpito e lo avvelena con una pugnalata e adesso questo è ingaggiato e avvelenato e da un pugno da un pugno perché non può fare altro ridicola sta cosa e adesso tocca il lupacchiotto il lupacchiotto non lo posso comandare io va a dare la protezione e si prende la fragilità allora non ce l'aveva ancora fragilità è una cosa che si attiva ammazza quanto piove in gioco sembra la vita vera ok altra pugnalata alle spalle a questo punto io i punti azione li uso altre pugnalate cattive chiudiamo e e si finisce così con un surround e un colpo di grazia e la cinematografica che spettacolo ok abbiamo fatto fuori il primo gruppo e siamo praticamente intonsi qui c'è una trappola ci spostiamo davanti alla trappola prendiamo l'incoraggiamento in modo da incoraggiare quattro dei nostri più il lupo e ci fermiamo ah dimenticavo che qua sotto ho ancora un arciere mi ero dimenticato completamente loro sono ancora quattro eh errore mio ok adesso i pugnali vanno contro i nostri tang io voglio proprio vedere se questo mette un piede sulla trappola oppure se si blocca dietro vediamo se è scemo è scemo è scemo posizionarmi davanti alla trappola ha funzionato bene altra cosa che abbiamo imparato oggi mega colpo stordente no scusate devo fare prima l'indebolimento pazienza però ce l'ho fatta guardate adesso posso fare wrath e anche questo è andato galvanization beh ragazzi il combattimento che devo dire si è partito in difficoltà ma adesso li stiamo saccagnando come dio comanda facciamo che Kynor scende e cerca di dare una mano al nostro pugnalatore e finalmente il povero pocher che è rimasto parcheggiato tutta la vita si può spostare piccolo da solo ok allora mettiamo il nostro arciere in posizione e vai a scoccare frecce ahia ci siamo colpiti da soli questa non va bene nuovo round la rifacciamo no facciamo che prendiamo ho sbagliato tutto vabbè ci mettiamo qua va bene c'è meno rischio ecco adesso è andata meglio c'è andata di culo tra l'altro perché non me l'aspettavo deflection qua c'è c'è del veleno tra l'altro altro piccolo pugno un pochino un pochino timido pugnalate finisce qua è andata vuoi che scappi no? li vuoi lasciare scappare? no 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 non li lasciamo fuggire vediamo se riesco a lanciare la il veleno no non riesco quindi passiamo il turno questo ci ha chiesto posso fuggire noi diciamo no e allora viene avanti e ci colpisce che bel gioco mega colpo colpo un po' più modesto come pugno ah perché questo può usare il pugno l'ho cliccato su di lui buono li abbiamo fatti fuori tutti ragazzi questa è tutta esperienza questa è tutta esperienza infatti Kynor fa il livello e guadagniamo finalmente un Rider's Bow di livello 2 loot all e curiamo tutti continuiamo andiamo a prendere Kynor per dargli il livello Kynor è il nostro cuoco nonché assassino che adesso si può specializzare è un ranger ogni volta che si ucciona no ogni volta che si ucciona è vicino a un allie lo diamo da supporto lo diamo d'attacco lo diamo d'attacco e allora il pugnale ha bisogno se non sbaglio adesso lo andiamo a vedere perché non mi ricordo scusate sì destrezza quindi Dexterity Career Plan destrezza e gli diamo destrezza 10 così Kynor può salire procediamo tra l'altro c'è un temporale qua c'è un mulino ti prego ti prego dimmi che c'è del cibo perché se non se non troviamo da mangiare siamo fritti wow tutti uccisi anche qua che abbiamo trovato del grano e però cosa ci faccio col grano il vestiario del cibo del carbone dell'olio di pesce e Herbert se lo uccido guadagno del denaro e dell'onore se invece lo curo gli do una medicina e lo curo voglio capire chi è ok ah quindi lui era lui faceva parte del gruppo che ha ucciso la ragazzina il padre è arrivato qua ha fatto il macello e ma posso reclutarlo? ah posso reclutarlo ragazzi un altro ranger wow tutti i ranger tutti i power ranger supporto valoroso dai la costituzione il power la destrezza diamo la destrezza anche a lui visto che è un ranger però a sto punto la domanda alla migliore di dollari è gli posso dare l'arco no no non può equipaggiare l'arco non può equipaggiare lo scudo non può equipaggiare nulla allora se gli do every time this innocence next on a lie diamogli o stratega dai che non l'ho dato a nessuno smoke screen e gli do più movimento visto che c'è ragazzi li sto facendo un po' così come capita però però adesso il gruppo sta crescendo un po' troppo secondo me cos'è questo va a finire che adesso chi cazzo è questo ah il padre lasciamo qua è il padre che vuole uccidere tutti adesso impazzito poverino ragazzi tornate indietro aspetta che qua c'è qua c'è un gruppo ti prego dimmi che hanno del cibo ti supplico perché siamo messi troppo male altrimenti no sono sono dei rifugiati pure loro e va bene ma dov'è il capo allora va a finire che qua ho fatto un errore sono nella tormenta non ho cibo non ho un cavolo di niente e qua c'è the haven va bene ti prego ti supplico dimmi che c'è una taverna sera melina cavi no dai c'è troppa gente per non avere delle robe a mangiare fammi parlare con fergas la leader il leader allora prima era lui era il sindaco il nobile sindaco di cortia e adesso è il leader dei rifugiati questo gruppo eh no non siamo non sono stati benvenuti ci viene detto abbiamo bisogno di legno per fortificare dice secondo me ci da un sacco di missioni comunque ovviamente io accetterò questa missione ci viene detto vai a parlare a italia boschi qua a nord e signori e signore io italia boschi a nord ci vado a parlare alla fine nel prossimo episodio infatti ora chiudo vi ringrazio per essere rimasti con me vi chiedo di lasciare un pollicione se un commento e io farò uscire il prossimo episodio più in fretta possibile però per gli abbonati ci sarà da subito un abbraccio signore a presto